ragazzi è finita è finita inter Frosinone inter batte Frosinone due zero non c'è stata storia non c'è stata partita abbiamo dominato e andiamo Torino con due risultati su tre meglio vincere a Torino con quelle merde bianconere che hanno sempre culo passiamo i voti della serata Sommer sei e mezzo quello che ha fatto lo ha fatto bene Sommer grande portiere primo tempo Dunfris cinque e mezzo mi è piaciuto poco pacchetto difensivo in ripresa bastoni che si prende sei e mezzo a Cerbi garanzia sei e mezzo Darmian sei e mezzo e che dire arriviamo a Federico Di Marcole Federico Di Marcole nove ha fatto un gol alla Maradona da 47 metri eccezionale e poi ahimè arriviamo a Barella che quest'anno nonostante stiamo andando fortissimo siamo una squadra in assoluto che ha perso solo una partita sono tutti i campionati non lo so Barella cinque mi sembra un po sfiduciato il ragazzo o gli manca un po di gamba per me dopo la sosta sarà lui a segnare Torino con la Juve segnatelo vabbè comunque cinque e un mezzo e poi Nikitarian Celanoglu sette Celanoglu nei rigori che vi devo dire da sentenza 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 si 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 le punte le punte si vi dico io Turam si è fatto il mazzo sette e mezzo per me il migliore con Di Marco Lautaro stasera si è sacrificato ma nulla di più sei e mezzo e sostituti gli diamo fratesi sensi e Carlos Augusto Arnautovic tutti sei Arnautovic anche per il periodo che le abbiamo vinte tutte tutte vinte da metà ottobre metà novembre un mese di solo vittorie e quindi siamo ad asta dritta aspettiamo la partita con le merde giuventine tra due settimane intanto noi siamo primi a viv capi noi siamo primi meritatamente Absolut Assoluto 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 Grazie a tutti